Ciao, sono Erika Lady Bass, appassionata di basso elettrico. Troverete in me la mia rubrica Bass Riff Story su Press Music. Vi racconterò dei riff di basso elettrico che hanno cambiato per me la storia della musica. Ogni puntata sarà o un riff o un bassista. Vi suonerò un riff e vi racconterò la sua storia e gli aneddoti. Vi aspetto! Grazie!